Buongiorno Dario e partiamo subito parlando del primo argomento di oggi che è TRETS naturalmente TRETS perché è stato lanciato ieri sera e quindi vale la pena di darci un'occhiata che cos'è TRETS? è un competitor, praticamente una copia spudorata abbastanza di Twitter creata da Meta e fa parte dell'ecosistema Instagram diciamo e offre fondamentalmente le stesse cose ma andiamo a vedere, andiamo a vedere perché vale la pena darci un'occhiata partendo proprio dall'articolo di The Verge che ne parla allora TRETS naturalmente come vedete si pone proprio come un'alternativa a Twitter Twitter tra l'altro come ne abbiamo parlato l'ultima volta ultimamente sta proprio precipitando nell'oblio l'ultima grossa restrizione agli utenti è stato il limite temporaneo poi è stato alzato insomma di lettura di 600 post al giorno soltanto per gli iscritti, gli utenti iscritti ma non verificati poi è stato alzato eccetera ma comunque in generale non tira una bellissima aria aria su Twitter e a quanto pare già da un po' Meta aveva così subodorato aveva odorato il sangue e aveva deciso di creare questo progetto e che è stato poi quindi definitivamente lanciato ieri l'interfaccia è un'interfaccia insomma minimale, minimalista simile, molto simile a quella di Twitter quindi ci sono le opzioni per mettere mi piace si può commentare, si può ripostare, si può condividere i thread thread naturalmente sono questa serie di post collegati tra di loro insomma come su Twitter threads è e rimane strettamente legato a Instagram quindi si seguono, si possono seguire le stesse persone che si seguono su Instagram si possono poi applicare dei filtri, dei controlli sulla privacy si possono filtrare certe parole insomma è un po' una riproposizione del comportamento dei meccanismi, dei settings base di Instagram però in un mondo di parole e appunto di thread alla Twitter non supporta al momento ActivityPub però questo è un protocollo decentralizzato il protocollo alla base di Mastodon per esempio e appunto Meta ha dichiarato di volerlo rendere compatibile cioè voler rendere thread compatibile anche con ActivityPub quindi magari favorire l'interoperabilità dei social network anche con le piattaforme decentralizzate vedremo, vedremo comunque insomma threads è nato da un progetto interno a Meta chiamato Project 92 e ha suscitato un po' di interesse in questi ultimi mesi anche da parte di personaggi pubblici quindi ieri in più di 100 paesi naturalmente inclusi gli Stati Uniti è stato lanciato ma non in Europa peraltro visto che si sta parlando di confronto Instagram o meglio Meta Twitter sapete che ci potrebbe essere anche un confronto molto fisico tra Zuckerberg e Elon Musk che a quanto pare hanno accettato di sfidarsi a botte in un incontro di wrestling vedremo cosa succederà ma tra l'altro un'altra cosa interessante riguardo threads è appunto il fatto che non sia lanciato non sia stato lanciato in Europa non sia disponibile in Europa se lo cercate sugli App Store non lo troverete non lo troverete e non sarà disponibile nei paesi dell'Unione Europea perché non è ovviamente a norma con la GDPR la gestione dei dati la commissione irlandese per la protezione dei dati quindi la DPC ha espresso dubbi sulle modalità con cui threads raccoglie e tratta i dati degli utenti informazioni personali informazioni finanziarie la cronologia di navigazione posizione acquisti insomma quello che sappiamo ovviamente le leggi europee sono molto più restrittive più rigide di quelle statunitensi per quanto riguarda dati e privacy e quindi quando c'è un lancio di un nuovo prodotto di questo tipo le aziende si devono conformare oppure non possono essere disponibili all'interno del territorio dell'Unione Europea se vi ricordate infatti anche altre volte l'autorità europea ha impedito di lanciare alcuni prodotti oppure di attivare alcune feature su prodotti per esempio gli annunci pubblicitari su Whatsapp acquisendo dati da Facebook e Instagram in Europa non sono possibili l'eccezione europea diciamo così chiamiamola ancora eccezione europea è la Gran Bretagna UK non è disciplinato dal GDPR e quindi non segue le norme privacy dell'Unione Europea e quindi threads è possibile lanciarlo in UK senza problemi Meta ha dichiarato che sta cercando una soluzione per rendere threads compatibile con le regole europee e quindi lanciarla anche in Unione Europea e vedremo un po' cosa succede nel frattempo se Twitter continuerà nella sua corsa a 100 all'ora contro un muro diciamo che la strada per threads sarà abbastanza spianata e chiuderei qui quindi con la news di threads passerei invece a un'altra piuttosto croccante che riguarda sempre i dati diciamo così lo scraping dei dati perché perché Google ha aggiornato la sua privacy policy per confermare sostanzialmente che usa i dati pubblici che sono reperibili su internet per addestrare i suoi modelli e i suoi modelli di intelligenza artificiale tra cui ovviamente il chatbot BARD e i motori di ricerca eccetera eccetera e queste sono ho preso queste informazioni da un articolo di The Register e insomma si può andare a vedere che nella sezione di ricerca e sviluppo sulla privacy policy c'è scritto questo testo che ora vi leggo Google usa le informazioni per migliorare i nostri servizi e sviluppare nuovi prodotti funzionalità e tecnologie che beneficiano i nostri utenti e il pubblico per esempio usiamo le informazioni pubblicamente disponibili per aiutare ad addestrare i modelli di intelligenza artificiale e costruire prodotti e funzionalità come Google Translate BARD e le capacità di cloud AI e tra l'altro come anche sottolineo l'articolo è molto interessante vedere che invece lo stesso link quindi il link alle privacy policy se aperto dall'Europa in questo caso dall'Italia non contiene questo nuovo testo che potrebbe essere semplicemente un fatto di aggiornamenti non è ancora stato aggiornato potrebbe essere invece che essendoci appunto leggi diverse in Europa anche la normativa privacy qua è diversa insomma un portavoce di Google poi ha detto ad A Register perché l'aggiornamento non ha cambiato fondamentalmente il modo con cui i modelli di intelligenza artificiale sono addestrati perché dice la nostra policy sulla privacy è sempre stata trasparente sul fatto che Google usi le informazioni pubblicamente disponibili sul web per addestrare i modelli di linguaggio come Google Translate e questo aggiornamento chiarisce soltanto che i servizi più recenti come BARD sono anche inclusi quindi incorporiamo principi e salvaguardi sulla privacy nello sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale in linea con i nostri principi e va bene questa è la dichiarazione del portavoce quindi naturalmente sappiamo che il processo di scraping dei dati per addestrare i sistemi di IA è un po' controverso insomma considerando che ci sono parecchi materiali coperti da diritti d'autore e questo è anche portato a cause legali quindi ci sono alcuni sviluppatori sviluppatori in ambito AI che insomma possano sostendere che questo rientrerebbe nel fair use nell'uso lecito e oppure anche che quello che i modelli producono è una nuova forma dell'opera e non è una copia dei dati originali però insomma questo sappiamo che è piuttosto dibattuto un punto piuttosto controverso quindi ora sappiamo che Google anche per i suoi servizi di IA che ricordo sono anche disponibili come servizi a account privati su workspace o comunque per servizi privati non solo per i servizi pubblici come Google Search Translate o BARD e insomma vedremo se cambierà qualcosa e quali saranno le conseguenze per gli utenti e per i creatori di contenuti ora che abbiamo questa nuova privacy policy più trasparente e io che posso dire questa era l'ultima news di oggi vi lascio soltanto un piccolo corollario per chiudere che è una cosa che ho un link che ho visto passare ieri da Hacker News che dice che parla di Evernote voi sapete che qualche mese fa Evernote un mese o più di qualche mese fa non mi ricordo più comunque un po' di tempo fa Evernote è stata acquisita da Bending Spoons che è un'azienda italiana questo piccolo testo pubblicato su Hacker News dice che l'acquirente quindi Bending Spoons ha praticamente preso il controllo di tutta Evernote e ha licenziato quindi si parla di layoff ha chiuso i rapporti con praticamente tutto lo staff di Evernote tutti quelli che erano rimasti dopo l'acquisizione sono stati mandati a casa e tra l'altro hanno aumentato il prezzo delle subscription dicendo agli utenti che con questi nuovi introiti questi nuovi soldi serviranno per creare nuove funzionalità si chiude questa nota dicendo l'autore di questo post dice come faranno a creare nuove funzionalità senza che ci sia più nessuno dello staff disponibile è qualcosa di interessante e poi conclude dicendo insomma se state usando Evernote probabilmente è il momento di smettere una nota un po' polemica non so se questo autore se questo utente insomma faceva parte di lo staff di Evernote oppure era un vecchio utente di Evernote non lo so non sono andato a controllare però insomma nota un po' così siccome Bending Spoons è a denta italiana volevo anche comunicare questo queste sono decisioni appunto del business di Bending Spoons e tutto quello che rimaneva dello staff di Evernote non c'è più vedremo come proseguirà io vi do vi do soltanto la notizia e dopo avervi dato questa appunto ultima notizia direi che la chiudiamo qua grazie per avermi seguito giusto un po' di cose ieri è uscito in podcast l'ultimo episodio di Continuous Delivery abbiamo parlato di Linux abbiamo approfondito la vicenda su Red Hat Enterprise Linux che avevo accennato già lunedì abbiamo un po' fatto chiacchiere anche con Alberto Buonacina un gradito ospite un amico e abbiamo parlato appunto anche un po' di ILDN per chi ricorda o magari per chi ancora fa parte del network italiano su Linux insomma è stato interessante si conclude quindi questa stagione di Continuous Delivery non sappiamo cosa ci riserverà il futuro magari ci saremo magari no vediamo vediamo cosa fare comunque è sempre incerto se si chiuderà qua è stata una bella avventura spero che vi sia piaciuta e spero che vi sia piaciuta anche questa puntata per cui vi ringrazio di avermi seguito e vi do appuntamento a una prossima fate i bravi ciao ah l'altra cosa è che ho pubblicato un nuovo tiktok solo questo era il tiktok ciao grazie a tutti